Dopo Schaudone e Schiavi potrebbe tingersi di Granata un altro ex Catania, il bomber Maniero. Un altro sogno di mezza estate, o meglio, di piena estate, è a meno di un mese dalla chiusura delle trattative. In Soldoni bisogna sbrigarsi per prendere il numero 9. Maniero è diventata prima scelta dopo che Mancosu non è riuscito a diventare Granata, anche perché con lui ci sono state brusche frenate, visto che appariva complicato anche ingaggiare Coda, che vorrebbe rimanere in Serie A. Maniero, invece, con il Catania ormai prossimo alla retrocessione d'ufficio, potrebbe essere alla ricerca di una società sana, motivata, nuova, visto che si era parlato anche di un suo possibile ritorno a Pescara. Tramontata poi l'ipotesi spezia, in Liguria hanno tenuto Nenè, ecco che la Salernitana è diventata un'opzione reale per Maniero. Nelle prossime ore ne capiremo di più. Intanto, domenica, per la prima partita ufficiale col Pisenticap, da capire se Mr. Torrente utilizzerà Kalil, sempre sul piede di partenza, oppure Eusepi. Quelle di dopodomani sera saranno comunque indicazioni fondamentali per intuire anche le future strategie di mercato del DS Fabiani. Salerno-Pagani per ora sarà solo andata, nel senso che dalla città capoluogo si preannunciano una serie di arrivi, in prestito o in compartecipazione, di giocatori che andrebbero a formare l'ossatura base della nuova Paganese. Ieri, a sorpresa, il presidente Trapani ha fatto retromarcia, ingaggiando Gianluca Grassadonia, per il quale aveva parlato di un secco no solo qualche giorno prima. Invece, alla fine, la soluzione Grassadonia in panchina era quella più ovvia, forse la più semplice per velocizzare anche i tempi di formazione della nuova compagine. Perché Grassadonia è allenatore, ma ha anche tante conoscenze, legami forti con la Salernitana e altre società, un fratello procuratore, insomma, si può costruire con lui un gruppo di almeno 10-12 giocatori base, soprattutto grazie alle sue conoscenze. Non si era lasciato benissimo con la piazza Grassadonia qualche anno fa, anche se la squadra in C2 veleggiava tra i piani alti, adesso deve invece ricominciare da capo. Giocatori, possibile il ritorno anche di Luca Orlando, attaccante che proprio quell'anno, con Grassadonia, segnò Caterve di Reti. Si parla del ritorno del mediano Grillo, il sogno è Munar, che a Salerno ha fatto bene prima di essere accantonato. Molto dipenderà comunque dal programma economico, legacy budget o business plane, per dirla alla Benitez, che il presidente Trapani intende organizzare per il torneo. Di sicuro ci saranno 5-6 giocatori esperti, tanti giovani e gente vogliosa di riscatto. Intanto sono ufficiali le conferme di Deli e Caccavallo. Il centrocampista ha fatto bene nelle ultime stagioni a Pagani, tanto da meritarsi il contratto col Parma, ma poi il fallimento dei ducali lo ha riavvicinato alla Paganese. Caccavallo, invece, per una questione prettamente economica, era stato ceduto alla Casertà nel gennaio scorso. Adesso torna in maglia azzurra per fare nuovamente la differenza. Grazie.